3, 2, 1, GO! Era l'ultimo, ce l'ha regalato della FIFA 365, ma comunque non lo completerò, però ci sono delle carte lì e delle altre carte giù, comunque non ci interessano questo. E ragazzi a noi ci interessa la bustina premium e le due normali, ragazzi niente possiamo iniziare con il video, allora le due normali le aprirò, vai, apri e io faccio vedere le carte, ti do una mano, guarda, aspettate un attimo ci vediamo quando l'apriamo, ok ragazzi gli do una mano io, eccoci, scusate un attimo, ok ragazzi andiamo con Sinisami Ailovic, Balic, Ciro Immobile e ragazzi è il rilievo, è il rilievo, non mi dire che è ancora un top player, sto rari, chiesa buonissimo e andiamo a girare al mio 3, 1, 2, 3, e ragazzi Mauro top player, Mauro Riccardi top player, ragazzi l'avete vista all'operta con voi, Mauro Riccardi top player, non ci credo, un top player di nuovo, ragazzi, ma cosa è successo, ragazzi ora vi faccio vedere gli altri due top player, io non vi prendo in giro, ragazzi vi faccio vedere l'altro, là, dove le ha messi il mio fratello, ok ragazzi non le abbiamo qua ora ma le andremo a prendere dopo, aspettate un attimo, vediamo quando le ho presi, cioè ragazzi io non vi sto a prendere in giro, qui abbiamo la card invincibile e Mertens top player, cioè ma io non ci credo, abbiamo trovato anche i cardi, i cardi top player, lo mettiamo ora nella sleeve, ragazzi è nuovo di zecca, che bello, non ci credo, stiamo sculando, sculo zar77 e sculo Lorenzo, perché le ha presi lui queste bustine ragazzi, non ci credo, ok ragazzi lasciamo i cardi top player qua davanti e andiamo con l'apertura del secondo pacchetto che andrà mio fratello, voi? Ragazzi io intanto mi sono munito di slips e troviamo qualche altra carta rara, ma penso di no perché io sono già l'uomo più felice del mondo, Mauro e Icardi, aspetta, ok dai ragazzi ci vediamo quando ho aperto il pacchetto, ok ragazzi l'abbiamo aperto, ok mio fratello non ce la faceva, mi stina lì, c'era il foglietto del plus, ok andiamo ragazzi, Matuidito plus, Ranocchio, Luca Cigarini, Ceravolo, Cragno, cioè la carta girata è un idolo curticito, va bene, va bene curticito, ragazzi, niente, ci abbiamo ancora bustina premium da aprirci, sono già troppo felice, cioè se troviamo un altro top player qua dentro sfondo tutto ragazzi, sfondo tutto, lasciate almeno 20 like per questo Mauro Icardi top player, 20 like, 20 like, scusate ragazzi un attimo, ok ragazzi ora andremo col pacchetto più forte, pacchetto premium, ok ragazzi lo aprirò io, lo cercherò di salvarlo, cerchiamo di salvarlo, ragazzi sono, ho sculato tutti, sculo zar 777, tanto scuotimento, però non ha coinci, andateli a seguire, fanno loro, anche loro video di adrenalin, ragazzi, ho già sculato troppo io, vero lollo, ok ragazzi lo sono riuscito a salvare, un po' male però comunque l'ho ben salvata, ok ragazzi andiamo a tirare fuori le carte, ragazzi non si vogliono cavare, ci sarà qualcosa di buono, ok ragazzi mettiamolo qua davanti, vabbè riuscivolo così, ok ragazzi andiamo con Danilo, caldara, ragazzi purtroppo in questi pacchetti non ci sono le plus, vabbè ho tirato fuori le carte, carzola, silvestre, pelluso, ragazzi Alfredson, guardate ragazzi un attimo era entrata mia mamma, Alfredson, poi eccoci qua, la carta è girata, andiamo a girare così, e abbiamo un silvestre idolo, scusate no, silvestre idolo, ragazzi c'è la limite della limited, ce l'andiamo a vedere per ultima, ragazzi, anche quest'altra voglio andarla a vedere per ultima magari, è qualcosa, è qualcosa, andiamo idolo, poi abbiamo un portierone allison, buono ci manca, e ragazzi c'è la carta girata, andiamo a vedere, qual è la carta girata, ok, mi sa che è la limited, ragazzi andiamo a vedere, ah no 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 no, è Alfredson, quella la mettiamo lì, anche silvestre idolo, qui ragazzi andiamo a vedere, la limited è, cerci, cerci limited edition, tra le più scarse però comunque va bene, e l'ultima è, coppia imbattibile, Candreva Icardi, ragazzi doppiona, doppiona però, va bene, va bene ragazzi, doppiona Candreva Icardi ci sta, comunque per la limited bellissima, ragazzi, bellissima la limited, allora ragazzi, facciamo un resoconto delle carte rare che abbiamo trovato oggi, allora ragazzi abbiamo trovato, mettiamola intanto nella bustina, Alessio Cerci, limited edition, poi la coppia imbattibile Candreva Icardi, anche questa nella sleeve, doppiona, doppiona, ragazzi, poi Silvestre Idolo, Alisson Portierone, buono, ci manca, Kurti Cidolo, ne avremo 5, e infine la chicca più grande, Mauro Icardi Top Player, ragazzi, non ci credo, ragazzi, abbiamo sculato, oggi abbiamo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sei carte rare, ragazzi, cioè, ma cos'è successo oggi? Cos'è successo? Ragazzi abbiamo trovato delle carte fortissime, e abbiamo trovato anche Ciro Immobile, normale, Federico Chiesa, delle carte abbastanza buone, comunque, niente ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, e iscrivetevi al mio canale, lasciate, lasciate almeno, 20, anzi, facciamo, quanti like vogliamo per questo video? 20 like per questo video, per un prossimo video spaccatamente, ragazzi, supportate il mio canale, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al mio canale, ci vediamo al prossimo video, ciao belli!